Falsa riapertura del centro mobile di ritiro ingombranti di largo annunciazione. Negli scorsi giorni il punto di ritiro era stato temporaneamente chiuso, generando l'indignazione di numerosi cittadini che vedevano così svanire la possibilità di gettare i propri rifiuti ingombranti. A distanza di poche ore dalla chiusura, attraverso i social, il consigliere con delega alla NU Luigi Mele faceva sapere che in poche ore il tutto sarebbe stato riabilitato e riattivato. Ad oggi il centro risulta aperto ma con cartelli che ne annunciano la chiusura temporanea. Cartelli lasciati probabilmente dalla scorsa chiusura, accanto ai quali è possibile trovare il numero verde buttol per poter sapere le modalità per conferire i propri ingombranti. Molte tipologie di rifiuti speciali, ad esempio ERAE, vengono ad ora ritirati solo a domicilio e quindi non è più possibile depositarli presso il centro mobile di raccolta. Una situazione di confusione che impedisce al cittadino di capire con quali modalità poter conferire i propri ingombranti. Si aggiungono poi le lamentele legate ad un numero telefoniche di assistenza che spesso non è attivo e i cittadini che una volta ottenuto un numero identificativo non vedono effettuato il ritiro a domicilio degli ingombranti. Stallo quindi sul fronte ai rifiuti ingombranti a Torre del Greco, in attesa che l'amministrazione comunale possa far luce per consentire ai cittadini un giusto conferimento.